Un vero e proprio consorzio familiare composto da uomini e donne dedicate alla progettazione e all'esecuzione di colpi in appartamento nelle province di Assisi, Arezzo e Siena. Questo quanto scoperto e smantellato dalla Polizia di Perugia, che ha dato esecuzione a misure cautelari a carico di otto persone, sedici invece complessivamente gli indagati, tutti già noti alle forze dell'ordine, per numerosi precedenti di polizia, dodici dei quali risultati beneficiari del reddito di cittadinanza. Per due persone è stata poi disposta la custodia cautelare in carcere per altre cinque gli arresti domiciliari e per uno l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I membri della presunta banda sono stati definiti dalla Polizia di notevole profilo criminale e ferati e senza scrupoli, insomma, dei veri e propri professionisti del crimine. Fra loro anche se donne scaltre e senza scrupoli, così le definiscono i poliziotti, di età compresa tra i 22 e i 40 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, a loro è infatti attribuito un ruolo di certo non secondario. Alcune di loro erano specializzate, i scippi e furti in abitazione, che mettevano a segno, sempre in base all'indagine, aggirando le padrone di casa scelte appositamente sole ed anziane, spacciandosi per venditrici di articoli vari o bisognose di servizi genici. Sono state infine individuate nel corso delle indagini anche le due basi logistiche, una alla periferia d'Assisi, dove i criminali si riunivano prima di commettere i furti.